Ho deciso di non candidarmi a Presidente della Regione Campania, una scelta meditata, difficile, dove ho messo da parte anche legittime ambizioni personali, anche una sfida politica molto interessante di andare a guidare la nostra Regione, ma ho scelto Napoli, una scelta d'amore ancora una volta di cuore, di passione, ma anche di razionalità. Il momento è troppo difficile per lasciare questa città nelle mani di un funzionario dello Stato senza la legittimazione democratica dell'elezione. È un momento in cui bisogna ricostruire la città da un punto di vista sociale ed economico, in cui bisogna dare forza ai cittadini, curare le ferite, ma anche dare potenza alle energie che solo questa città sa di possedere. Ho dedicato nove anni della mia vita a questa città, dedicherò anche l'ultimo anno del mio mandato, fino a giugno del 2021. Insieme porteremo Napoli, dove l'avevamo lasciata a febbraio, in vetta nel mondo per energia, cultura, turismo, capacità economica. Ne sono assolutamente convinto ed è per questo che ritengo che in questo momento spendermi in prima persona in una campagna elettorale potrebbe significare un tradimento della città. Ancora una volta nella mia vita ho una scelta d'amore, ne sono contento perché amo profondamente questa città, così ho cominciato il mio mandato e fino alla fine mi impegnerò solo esclusivamente per Napoli e per i napoletani.